Venite a trovarci nel nostro showroom, Tirregna Auto, la piattaforma dell'auto. Ben 900 italiani messi a disposizione dei tifosi della Cavese per assistere al derby in programma allo stadio Squitieri di Sarno con la polisportiva sarnese. I tagliandi che sono in prevendita a Cava dei Tirreni presso la cartoleria Tirrena costano 11 euro compresi i diritti di prevendita e potranno essere venduti fino a sabato alle ore 20. Vista l'attesa crescente nella Valle Metelliana, i biglietti sono destinati a essere acquistati. Si tratta anche della trasferta più vicina per i sostenitori di cava che avranno bisogno di percorrere una ventina di chilometri per raggiungere Sarno. Se c'è una caratteristica che potrebbe giocare a favore della Cavese, quella è l'esperienza. Molti calciatori metelliani sono stati anche in serie superiori, ma il presidente degli Aquilotti, Antonio Fariello, ai microfoni di un quotidiano locale, ha sottolineato come la polisportiva sarnese sia una formazione coriacea, come testimonia il fatto che in due delle ultime partite ha recuperato il risultato di parità nei minuti conclusivi. Quindi da parte Aquilotta c'è fiducia nei mezzi dimostrati fin qui, ma anche rispetto per questa sarnese che porterà allo stadio un discreto numero anche di spettatori locali. Fariello tra l'altro non potrà andare in panchina per due domeniche, essendo stato squalificato fino a metà febbraio a causa dell'espulsione ricevuta domenica scorsa contro l'Alta Mura per proteste, quindi certamente assisterà al derby di Sarno da un settore dello stadio. Altre DD per la polisportiva sarnese allenata da Carmelo Condemi non sono alle viste squalifiche, mentre per quanto riguarda l'alto tavoliere Sansevero, che affronterà la Cavese fra tre settimane, c'è già da registrare l'indisponibilità di Tommasini, difensore centrale, per squalifica. Sono stati inflitti tre turni al giocatore espulso contro il Gravina. Domenica ci sarà un minuto di raccoglimento per onorare la memoria di Azzeglio Vicini, già selezionatore della Nazionale Italiana di Calcio, che partecipò all'Europeo dell'88 e al Mondiale del 90. Venuto a mancare l'altro ieri a Brescia.